Allora, il gruppo storico di Montevarchi partecipa alla drisce, diciamo così, alla festa della Toscana con una rievocazione appunto storica? Sì, è un gruppo storico che la rievocazione storica a Montevarchi ormai è una trentina d'anni che esiste, negli ultimi anni ha trovato un nuovo impulso grazie all'impegno dei tanti volontari che in maniera sistematica contribuiscono a costruire rappresentazione assolutamente di livello e domenica in occasione della festa della Toscana a Montevarchi convergeranno tutte le associazioni di rievocazione storica e tradizionale della provincia d'Arezzo si parla di un numero da 12 a 15 associazioni, quindi sarà qualcosa di molto bello, di molto particolare che affonda le radici nella nostra storia, nelle nostre tradizioni nelle tradizioni del nostro territorio, credo sia un'iniziativa importante che contribuisce a nobilitare la festa della Toscana e quindi credo che sarà una giornata interessante, bella, dove chi avrà la voglia e il desiderio, e noi consigliamo caldamente a venire a Montevarchi avrà modo di vedere tutta una serie di cose che rievocano il quotidiano di qualche anno fa Grazie Grazie